Che novità ci sono da ieri a stamattina? Penso proprio a nessuno perché sono venuti qua, noi siamo in un posto di lavoro e abbiamo trovato tutti gli automezzi senza le chiave e chiusi. Si sono presentati dicendo che vedevano di fare il possibile per pagarci almeno la manzitabilità di ottombre, ma così non è stato. Attualmente il sindaco e il vice sindaco Filetti stanno parlando con il nostro capo servizio per fare in modo che si sostituiscono all'azienda appaltante per pagarci in prima pressione. Questa sarebbe l'unica nostra speranza di prendere entrambi i due stipendi che aspettiamo dalla Termotetti, ex Termotetti Nuova Ecologie, sarebbe ottombre, ma è in più la tredicesima che la ditta già ha in mano. Per cui la speranza nostra è solo che l'amministrazione si sostituisca all'azienda con i poteri sostituisci e stiamo in attesa di una risposta. Ma da ieri a oggi non è cambiato assolutamente niente e non è cambiato neanche il nostro modo. Siamo qui 24 su 24 non lavorando finché non avremo i soldi che a noi aspettano le due aspettanze ottombre e novembre.